Come dire, sono sempre positive le notizie che giungono all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione. Di queste notizie parleremo adesso con l'avvocato Antonio Carullo, commissario straordinario dell'IRCAC, che ha avviato il 2012 come meglio non si poteva, ma un'altra notizia importante è quella relativa all'accordo che avete siglato appunto con l'assessorato all'agricoltura in riferimento alle cooperative agricole. Iniziamo con le cifre di questi primi quattro mesi. Le cifre dei quattro mesi sono indicative di un'attività che in realtà è sempre in continuo svolgimento. Io devo premettere che ciò è possibile perché l'IRCAC è e rimane una struttura a servizio della cooperazione siciliana, ritengo in modo molto positivo, perché abbiamo una grande sinergia con le centrali cooperative con le quali questa amministrazione, l'amministrazione commissariale ha sempre doverosamente e ha un ottimo rapporto, soprattutto costruttivo nell'interesse dei cooperatori e della cooperazione. E perché il governo regionale ha creduto e crede, e lo ha creduto fortemente anche in questo ultimo periodo, aiutare l'IRCAC, ritenere l'IRCAC uno snodo importante nell'economia regionale per venire incontro alle piccole e medie imprese che soprattutto nel mondo cooperativo operano. I numeri, i numeri che sono il punto di riferimento, il punto alto diciamo di quella che è l'attività deliberativa. L'IRCAC ha fatto affidamenti negli ultimi 4 mesi per oltre 8-9 milioni di Euro ad oltre 50-60 cooperative. Dico 50-60 perché dovrei materialmente fare il punto con l'ultima seduta deliberante che è stata di oltre 2 milioni e 800 mila Euro a favore di oltre 20-22 cooperative siciliane. Diciamo quello che è importante che a me preme sottolineare e che non è un qualcosa di eccezionale. Ormai è un modo rutinario, le cooperative vengono all'IRCAC, operano attraverso le centrali cooperative o attraverso i nostri sportelli sul territorio. L'IRCAC istruisce, dà i fondi e, devo dire, li recupera. Questo ha fatto sì che l'assessore D'Antrassi, il presidente Lombardo, vedessero nell'IRCAC un punto di riferimento importante e noi abbiamo sviluppato e rinnovato una convenzione che ho firmato il mese scorso con l'assessorato all'agricoltura che ha da un lato limato e confermato i precedenti accordi e poi in attuazione a quelle che sono le norme della lei regionale in materia ha stipulato con l'IRCAC una nuova attività per cui noi daremmo e utilizzeremo i 5 milioni e mezzo di fondi che sono stati messi a disposizione delle cooperative agricole e dell'imprenditoria agricola dove con aumenti di capitale noi possiamo coprire oltre il 50% della somma che viene utilizzata per aumentare il capitale e quindi concedere dei mutui a medio termine pagando naturalmente con lo sconto sugli interessi. È un'attività estremamente importante, noi agiamo di intesa con l'assessorato all'agricoltura e quindi sia per l'aumento di capitale sia per il ripiano dei debiti. Grazie